amore capoeira iniziamo così questa mattinata di open day cinema Ivan abbiamo un ospite già subito pronto con cui iniziare ti racconterò perché mi hai fatto ridere mi è venuta in mente una scena bellissima del mio liceo va bene eh Francesco Di Martino è un regista è un caro amico buongiorno Francesco buongiorno ci vediamo ci rivediamo mamma mia quanto tempo è passato da dal cinema de seta da novembre da novembre da novembre ti sei fatto una bella barba folta anzi l'ho tagliata era molto più lunga quindi diceva Ivan che se vuole da qui al prossimo novembre potrebbe provare a farti concorrenza perché no secondo me non staresti male dovresti pensarci grazie caro tu sei sempre buono e sai che ti stimo allora eh meraviglioso inizio per quest'oggi del nostro format sul cinema e non potevo che iniziare con un film eh che ehm sta per per debuttare poi eh Riccardo eh avevo anche mandato un una una foto dove ci sono le date del tour di di questo film che prima che inizi l'estate siamo assolutamente prima che arrivi l'estate prima che arrivi ecco scusami Francesco quindi siamo in tempo praticamente sì ok ok ovviamente il pennello cade diciamo dici tu raccontaci la genesi di questo film e poi vediamo il trailer eh su Facebook ma eh intanto grazie per per l'invito io sono due anni che aspetto questo momento perché in realtà il film è uscito durante la pandemia è stato presentato per la prima volta al Trento Film Festival e devo ringraziare anche Sergio Fante che è stato colui che l'ha selezionato dove è stato poi in anteprima lo scorso agosto 2020 in realtà quindi quasi due anni fa e il film nasce in Val Camonica siamo siamo in provincia di Brescia eh io per puro caso ero in tour con un altro documentario eh che si chiama Gleno dove finisce la valle e mi sono trovato ad arrivare a Berzo Demo che è un piccolo paesino della della Val Camonica e mi hanno messo a dormire a Saviore della Damello dove per puro caso ho incontrato grazie a un'amica in realtà che conosceva questo signore che si chiama Italo Biggioli che è il protagonista del film ho conosciuto questo tizio che era quando l'ho visto mi sono praticamente innamorato eh per come si è manifestato comunque sta di fatto che dopo tre mesi averlo visto una volta solo l'ho visto dopo tre mesi sono tornato da lui mi aveva raccontato qualcosa sulla sua vita che ora non vi vado a spolerare troppo certo e ci sono tornato con l'idea ho detto guarda io vorrei fare un film su di te e da lì l'ho seguito per quattro anni e questo diciamo è l'inizio del film il racconto è molto semplice lo 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 riassumo Italo è un un ex militante di di sinistra apparteneva ai gruppi di lotta continua nel Bresciano dopo le stragi di piazza loggia a Brescia piazza Fontana a Milano ha deciso di abbandonare la militanza per andare a rifugiarsi in montagna e lì decide di cominciare un suo percorso fatto di terra di altri tipi di valori diciamo comincia a fare il contadino poi per fortuna che ora non vi sto a raccontare perché è troppo lungo entra in contatto con un gruppo di nativi americani e da lì il suo percorso cambia anzi la sua vita cambia perché comincia a fare diciamo un'esperienza molto più grande con un gruppo prima di apache che sono andati a trovarlo e poi di di la cota che che poi vedrete anche nel film io voglio vedere storia intrigante sì il trailer riassume tutto quello che sta sta raccontando francesco ed è veramente bellissimo allora facciamo una cosa mandiamo alla radio love you baby diamo un po di musica a chi è in questo momento sintonizzato attraverso l'fm attraverso il dub però per chi ci sta vedendo sulla pagina facebook di radio in ecco che arriva proprio il trailer di prima che arrivi l'estate l'origine il punto è l'origine noi siamo qui siamo collocati qua per noi tutto cambia in continuazione noi possiamo anche decidere di non accettarlo il cambiamento però non possiamo più vivere bene 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 L'uomo può essere il protagonista del cambiamento E' lui che decide se accoglierlo o meno E' lui che decide in quale direzione andare E' lui che decide in quale direzione Questa è la libertà E' lui che decide in quale direzione 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 E' lui che dice in quale direzione E' lui che dice in quale direzione E' lui che dice in quale direzione Ogni documentario se tu vai a vedere La mia filmografia è stato frutto di un incontro Sempre grazie a un film che avevo fatto prima Questo con Italo è la stessa cosa Io ero in tour con il mio documentario Stavo girando la Valcamonica Ho fatto dieci date in estate Arrivo da lui Guardo la sua casa Che era piena di acchiappasoni Non so se avete visto nel trailer C'è solo un frame Dove ci sono questi centinaia di acchiappasoni Fuori da casa sua Viene fuori questo signore Che sembrava un indiano Camuno però Quindi non un indiano nativo americano E io mi sono affascinato Dopo tre mesi sono stato da lui E non l'ho più mollato per quattro anni Anzi lui è stato gentilissimo Ad accogliermi anche da sconosciuto Perché poi questo è un dettaglio Che non si dice mai Non è semplice Tu arrivi con la telecamera A casa di queste persone E loro ti devono accogliere Entri poi in simbiosi Con la persona che diventa personaggio L'abbiamo detto più volte E loro stessi non si vedono Subito davanti alla telecamera E io non so cosa succede È una magia Questa è la magia forse Dove la camera diventa invisibile No Francesco? La camera diventa invisibile Perché io poi cerco di Non manipolare troppo Di non costruire Perché tu sai bene Oggi il cinema è gli ultimi dieci anni Dopo Franco Rossi a Venezia È successo Gianfranco Rossi scusa A Venezia Dopo Sacro Gra Il cinema ha cominciato Il cinema documentario Ha iniziato a A metterci tanta finzione C'è stato sempre questa cosa E tu lo sai bene Ivan Però oggi un po' di più No? È vero Ecco io questa cosa Non cerco di non Di girare veramente Come dicevi tu In presa diretta Cercando di non manipolare Quello che succede Ma non perché devo avere Per forza la spontaneità Solo per raccontare Quello che Che io ho visto Principalmente Che poi È la base Del documentario La testimonianza Grande Francesco Senti facciamo vedere Riccardo Quella schermata Con le date Del film Eccola Per cui Chi ci sta seguendo Su Facebook Può Brescia Genova Milano Firenze Siamo sul pezzo Quindi 12 giugno Brescia Poi Genova Poi Milano Firenze Insomma un bel tour Francesco Che ti fa onore E che sicuramente Raccoglierai Ovviamente in sale Il film Giusto? Allora Sono praticamente Tutte sale Tranne Brescia Perché dovevo farla Al cinema Eden Ma aprono Per l'estate Loro che fanno L'arena estiva E non c'è stata La possibilità E Genova anche Perché lì Sono in un luogo Particolare Dove è un amico Che mi ospita Perché tu Tu non sai Ivan Ma io in passato Ho fatto anche Le presentazioni Nelle case Che è una cosa Che a me piace tantissimo E sinceramente È più bella Anche del cinema Scusate se lo dico Lo fa Massimo Di Martino a Palermo E dove mi ospitano Io presento il mio film Ci sono 20 persone Magari c'è la cena A volte sì A volte no Però è bello Perché lì si fa Una presentazione Che poi Non si sa Quando finisce È una formula Anche perché Si toglie anche Quel senso di inibizione Nel magari fare La domanda al regista Che la grande folla Crea Quindi c'è Quell'intimità Quella confidenza È un momento bellissimo Francesco Però sono contento Però sono contento di una cosa Avete mostrato il trailer Del mio cinema preferito Nel senso Il cinema Beltrade Che io saluto Loro sono molto care Perché Monica Mi ospitano sempre Quindi Sono felice Che avete mostrato La schermata Dove c'è la C Del cinema Beltrade Quella è la mia sala preferita Lì Vado sempre in sala Perché ho la fortuna Di presentare Già i miei film Da molti anni Loro sono gentili Mi ospitano sempre Danno spazio A registi come me Che non sono nessuno Quindi Non è vero Invece Questa griglia Di date Di mostra Di come Riusciamo ad esportare Un talento siciliano Un regista Di film Di documentari Tutto siciliano Che va al nord A proporre Appunto I suoi progetti I suoi lavori Forza Francesco Di Martino Ricordiamo Prima che arrivi l'estate E grazie mille Per essere stato con noi Quest'oggi Grazie a voi Davvero E ci si vede in giro Per l'Italia Questo è solo il primo tour Poi proseguirò Con altre dieci date Ad ottobre Quindi sarà molto bello Ti aspettiamo a Palermo Esatto Fantastico Grazie mille ragazzi Ciao 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 E poi torniamo subito In diretta Con Open Day Cinema Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti